In Calabria si contano sulle dita di una mano le scuole che sono totalmente in regola con le previsioni relative alla sicurezza. A lanciare l'allarme è la segretaria della Fenea Will Calabria, Maria Elena Senese. Certificati di agibilità inesistenti, piani della prevenzione incendie non attuati, sembrano essere la regola di un panorama infrastrutturale che per una percentuale molto alta vede le scuole calabresi costruite prima degli anni 70 e questa una situazione inaccettabile che segnaliamo da tempo, che non vedrà mutamenti concreti in tempi brevi, anche alla luce del rischio di non vedere finalizzati i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questi finanziamenti infatti sono solo 16 i progetti di nuove scuole finanziate in Calabria con il record negativo della provincia di Reggio Calabria che si è vista finanziare un solo progetto. La Calabria ha bisogno di un nuovo piano infrastrutturale scolastico che segua le indicazioni dell'Unione Europea, sia finalizzato alla costruzione di nuovi edifici scolastici e faccia concretamente delle scuole luoghi di inclusione e apprendimento moderne ed efficienti. Senese commenta poi i dati pubblicati da Cittadinanza Attiva e raccolti anche dal portale Open. Intanto dobbiamo dire che in Calabria, afferma Senese, ci sono oltre 2.000 scuole presenti sul territorio e di queste 1.286 sono costruite in zona 1 per quanto riguarda il rischio terremoti, mentre 864 sono quelle realizzate in zona 2. In Calabria si attesta al 18,75% la percentuale delle scuole che hanno certificato antincendio. Nella nostra regione, ancora, sono solo 461 gli edifici scolastici che hanno una mensa e allo stato attuale ammontano a 80 gli interventi approvati per un ammontare di quasi 30 milioni di euro che dovrebbero portare alla costruzione di 46 nuove mense e alla demolizione e ricostruzione e ampliamento di 11 strutture di refettorio e alla riqualificazione e riconversione di altre 23. Per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, invece, la Calabria avrà una dote di 34 milioni di euro su uno plafond di risorse che ammonta a quasi 4 miliardi di euro.